Allora, sì, sono riuscito a realizzare che ho vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, però non mi sento travolto, nonostante ho ricevuto una valanga di messaggi. Non lo so, mi sento molto tranquillo e rilassato. Cioè, avevo paura che vincere le Olimpiadi mi avrebbe un po' destabilizzato, invece no. Speriamo di continuare così. L'impresa è stata entrare con la mentalità giusta, ossia combattere come se fosse una gara normale. Buonasera Presidente. Volevo presentare, che stai facendo qua? Mi stanno facendo delle domande. Presidente, perché ho vinto questa gara? Voglio festeggiare con i ragazzi, con tutte le persone che ho conosciuto a Roma, però voglio festeggiare anche a casa con la mia famiglia. E niente, poi mi voglio godere un po' di mare in Puglia, però continuare anche ad allenarmi perché poi voglio partecipare anche ai giochi olimpici di Parigi. Quando ho iniziato a praticare sport l'ho fatto solo per un semplice motivo, ossia combattere la mia timidezza, poi mi piaceva praticare sport perché stavo a contatto con altre persone. Mai avrei pensato di vincere neanche un italiano, figura di partecipare alle Olimpiadi e vincerle.